Garanzia di qualità il maestro Doriano Ferri, la sua musica è immediatamente riconoscibile e conquista, rallegra e trasforma ogni serata in appuntamenti indimenticabili. Dalla sua fisarmonica escono melodie capaci di sedurre e parlare direttamente al cuore. Un artista talentuoso che sa mostrare tutta la sua versatilità strumentale arrecchendo ogni esibizione di profonda personalità. Ogni sua uscita è un successo e Proloquo e i sudalizi valtelinesi lo sanno bene. Ogni sua uscita conferma i suoi pregi, bravura e generosità. Contattare Ferri significa mettersi in mani sicure, significa garantirsi risultati eccellenti e repertori all'altezza di ogni aspettativa per andare incontro a panorami di gusti musicali più vasti possibili. Con Ferri la musica diviene raffinata poesia e ballare sulle sue note è un piacere, tutto da provare. Ricercatore dell'incanto musicale sa conquistare il suo pubblico con Appil accompagnando i presenti in un viaggio all'insegna dell'allegria, ma anche in affreschi di note di particolare intensità. Doriano è un grandissimo musicista innanzitutto, è un grandissimo personaggio, un animale da palco, preparatissimo, insegna, suona, fa di tutto di più, fisarmonicista, saxofonista. I miei bambini sono allievi del maestro Doriano, è una persona molto allegra e trascina soprattutto i bambini. Come musicista ti trasmette delle belle emozioni proprio perché è una persona solare. Profondo amore per la musica e grande dignità professionale fanno di Ferri un musicista di inestimabile valore. Doriano per noi è stato un momento nuovo, un momento bello del nostro gruppo perché abbiamo incontrato non solo un grande professionista, ma abbiamo incontrato una persona che sa vivere il gruppo e che ci ha dato veramente tanto. La cosa che mi rende Doriano è la grande passione che sa trasmettere ai giovani, ai ragazzi, ma sa trasmettere passione con una musica che solitamente sembra essere difficile da digerire ai più giovani. Invece in quella musica, nella tradizione, nel folklore ci sono ancora quelle cose sane che vanno mantenute. E secondo me persone che con tanta passione come Doriano trasmettono questo, meritano veramente di essere incoraggiate. Si esibisce da protagonista ma anche accompagnando altri artisti e ai suoi tanti fan, contagiati da ritmo, simpatia e bravura, basta solo il nome per sciogliersi in applausi e spesso anche commuoversi di gioia.